Ho detto che l'uomo non pensa, che sono io dentro di lui che penso. Ho anche detto che l'uomo crede di pensare. Siccome questo è in apparenza una contraddizione, io ti mostrerò che l'uomo normalmente non pensa più che non faccia ogni altra cosa che egli supponga di fare. Poiché io dentro di lui faccio tutto ciò che egli fa, ma lo faccio necessariamente per mezzo del suo organismo, della sua personalità, del suo corpo, della sua mente e della sua anima, cercherò ora di farti comprendere come ciò possa essere. Ricorda prima di tutto che io ti feci a mia immagine e somiglianza e che ho il mio essere dentro di te. Ma questo non lo credi ancora. Tu credi che io, Dio, sia in qualche luogo fuori di te, che noi siamo separati. Inoltre, ciò che tu fai quando credi di pensare non è realmente pensare, perché non è un pensare cosciente. Ancora, essendo tu inconscio di me, l'ispiratore, il dirigente di ogni idea, di ogni pensiero che entra nella tua mente. Ancora, essendo io in te e tu fatto a mia immagine e somiglianza, e quindi possedendo tutte le mie facoltà, tu puoi pensare. Ma non essendo conscio del fatto che pensare è creare, e che pensando tu adoperi uno dei miei divini poteri, tu hai bensì pensato durante tutta la vita, ma hai pensato male, cioè hai pensato ciò che tu chiameresti l'errore. Questo pensare erroneamente ti ha sempre più separato da me, pur adempiendo il mio piano, che più innanzi ti sarà manifesto. La prova di questo è che tu credi di essere separato da me, e di vivere in un mondo materiale. Che il tuo corpo di carne produca e accolga il piacere ed il dolore, e che nel mondo si manifesti una cattiva influenza chiamata demonio, la quale si opponga alla mia volontà, e così è per te, poiché tutto è per l'uomo, come egli pensa o crede che sia. E sono pure io che ho fatto apparire all'uomo tutto ciò, come se fosse ciò che egli pensa che sia. Anche questo in vista del mio intento e per adempiere la legge del creare. Infatti, se tu credi che una cosa sia in un certo modo, non è essa per te realmente così? Quindi, se una cosa ti sembra reale, sia essa una gioia o un dolore, un disturbo o un cruccio, o qualunque altra cosa, condizione o d'esperienza, non è essa reale per te solo perché il tuo pensarla e crederla tale la fa tale per te? Ma essa sembra reale soltanto a te. Altri possono pensarla del tutto differente, non è vero? E se è così allora, il tuo corpo, la tua personalità, il tuo carattere, il tuo ambiente, il tuo mondo, sono come appaiono a te solo perché tu li hai pensati tali. Quindi, tu puoi cambiarli col medesimo processo se non ti piacciono, non è vero? E tu puoi farli comunque tu voglia pensando li tali. Ma tu domandi, come si può realmente pensare, coscientemente pensare, in modo da produrre questo cambiamento? Sappi innanzitutto che io, il tuo sé reale, ho espressamente attirato la tua attenzione su queste cose che ora ti dispiacciono e che te le lascio pensare quali esse ora ti sembrano. Io, io solo preparo così la tua mente umana, in modo che quando tu ti volgerai interiormente a me, con fede durevole, possa renderti capace di comprendere e manifestare esteriormente la realtà delle cose che ora ti sembrano così poco soddisfacenti. Poiché io ti porto tutto ciò che con la sua apparenza esterna può attrarre o allettare la tua mente umana e spingerla innanzi nella sua ricerca terrena, allo scopo di istruirti intorno alla illusorietà di tutte le apparenze materiali e alla fallibilità di ogni giudizio umano, così che tu ti volga finalmente a me, dentro, alla mia sapienza, come una ed unica interprete e guida. E quando tu ti sia volto così a me, dentro, io aprirò i tuoi occhi e ti farò vedere che l'unico modo di provocare questo cambiamento nel pensare è di mutare prima il tuo atteggiamento verso tutte queste cose che ora tu pensi non siano quel che dovrebbero essere, cioè se esse non sono soddisfacenti o ti sembrano biasimevoli e ti toccano al punto da recarti dolore o disturbo della mente ebbene cessa di pensare che esse possano addolorarti o disturbarti. insomma, chi è il padrone? il tuo corpo? la tua mente? oppure tu? l'io sono interiore? allora perché non mostrare che tu sei il padrone pensando le vere cose che l'io sono dentro di te desidera che tu pensi? tutte le cose influiscono su di te solo in quanto tu le pensi e dai loro il potere di turbarti o tediarti se tu cessi di pensare che esse abbiano questo potere ti volgi dentro a me e mi permetti di dirigere il tuo pensiero esse spariranno immediatamente dalla tua coscienza e si dissolveranno nel nulla da cui tu, pensandole, le hai tratte quando tu sarai disposto a fare questo solo allora sarai pronto a riconoscere la verità e, per mezzo di un pensare cosciente diretto da me a creare al loro posto le cose vere e permanenti che io dentro desidero che tu crei allora quando tu saprai distinguere il vero dal falso il reale dall'apparente il tuo pensiero cosciente sarà tanto potente da creare tutto ciò che desideri come lo è stato il tuo pensiero inconscio nel creare in passato quelle cose che tu un tempo desiderasti e che ora trovi odiose poiché fu per il tuo pensiero inconscio o per il tuo pensare senza aver coscienza del dominio che i tuoi desideri esercitavano sui tuoi poteri creativi che il tuo mondo e la tua vita ora sono ciò che tu qualche volta in passato desiderasti che fossero hai tu studiato e analizzato mai il processo con cui lavora la tua mente quando le appare una nuova idea fertile di possibilità? hai notato la relazione che il desiderio ha con quell'idea e come pensandola essa al fine si realizzi? studiamo questa relazione questo processo prima di tutto c'è sempre un'idea non considerando adesso la necessità o l'occasione per cui essa è apparsa e non importa di dove essa venga se di dentro o di fuori poiché in ogni modo sono io che l'ispiro e faccio sì che essa impressioni la tua coscienza in quel momento particolare in quel momento particolare poi precisamente nella misura in cui tu ti concentri su di essa arrestando tutte le attività della tua mente ed eliminando tutte le altre idee e pensieri dalla tua coscienza in modo che questa possa avere pieno impero su tale idea io io illumino la tua mente e faccio svolgere rivolgere dinanzi ad essa i vari aspetti le varie possibilità che essa contiene tutto ciò ha luogo fino a questo punto senza il concorso della tua volontà tranne che nel mettere a fuoco ovvero nel concentrare la tua attenzione su quell'idea ma una volta che io ho dato alla tua mente umana una prospettiva delle sue possibilità e ho attirato ad essa il tuo interesse allora diviene responsabile la tua personalità allora essa deve assumere il suo compito poiché come io creai e generai quell'idea così nell'atto stesso io generai in essa il potere di creare e generare il desiderio desiderio di portare a manifestazione esterna tutte le possibilità dell'idea stessa quindi il desiderio diviene l'agente mortale della mia volontà e fornisce la forza motrice precisamente come la personalità umana è lo strumento è lo strumento mortale adoperato per costringere e mettere a fuoco quel potere quindi nasce per prima l'idea nella mente poi sorge il desiderio di realizzarla questo per ciò che concerne la relazione veniamo ora al processo di realizzazione a seconda della precisione con cui la mente afferra l'immagine dell'idea e nella misura con cui l'idea possiede la personalità procede nell'opera sua il potere creativo sotto l'impulso del desiderio e fa questo costringendo la mente mortale a pensare o immaginare in altre parole a costruire forme mentali in cui io posso come in un vuoto riversare la forza vitale elementare impersonale dell'idea che subito comincia a realizzarsi prima dirigendo e dominando la coscienza e tutte le attività della mente e del corpo e di tutte le menti e di tutti i corpi che sono in relazione con essa stessa e poi attraendo guidando modellando le cose e gli eventi in modo che prima o poi quell'idea possa avere definita e tangibile manifestazione così ogni cosa ogni condizione ogni evento prima furono un'idea nella mente mente pensa questo e fa tu stesso la prova prendi un'idea qualunque e seguila attraverso tutto il processo dal suo primo apparire alla sua realizzazione oppure prendi un atto qualunque da te compiuto una tua opera d'arte una tua invenzione o qualunque cosa o condizione ora esistente e risali alle sue origini all'idea prima da cui partì questo è il processo di ogni vero pensatore e quindi di tutta la creazione in altre parole ora tu hai e hai sempre avuto per mezzo del potere del pensiero il dominio su tutti i regni della terra se solo tu lo sapessi tu hai ora in questo momento solo da pensare o proferire parola e la coscienza aspettante di tutte le cellule invisibili di tutta la materia su cui si concentrano la tua volontà e la tua attenzione cominceranno ad obbedire immediatamente e ad agire a seconda dell'immagine o dei piani che tu hai preparato pensandoli una volta che tu sei persuaso di questo e che sai che la coscienza dell'io sono in te è una con la coscienza di tutta la materia animata e inanimata e che la sua volontà è una con la tua che è la mia volontà allora tu comincerai a conoscere sentire me dentro e riconoscerai il potere e lo splendore della mia idea che esprime eternamente se stessa impersonalmente per mezzo tuo ma prima è assolutamente necessario che tu impari a pensare a distinguere i tuoi pensieri quelli diretti da me dentro dai pensieri degli altri a rintracciare fino alla loro origine la sorgente dei pensieri a bandire dalla tua coscienza quelli che non sono desiderabili e finalmente a dominare e utilizzare i tuoi desideri in modo che essi servano sempre te invece di renderti loro schiavo tu hai in te tutte le possibilità poiché io sono in te la mia idea deve esprimersi per mezzo tuo essa si esprimerà perfettamente se tu lo permetterai se tu calmerai la tua mente umana se metterai da parte le tue idee credenze opinioni personali allora la lascerai fluire dall'esterno tu non hai che davolgerti dentro a me e lasciarmi dirigere il tuo pensiero lasciarmi esprimere qualunque cosa io voglia accettando personalmente e facendo ciò che io desidero che tu faccia allora nella tua vita ci sarà una grande armonia il tuo mondo diverrà un paradiso e tu stesso diverrai uno con me quando tu avrai cominciato a realizzare tutto ciò e avrai avuto un barlume del suo intimo significato sarai pronto ad afferrare il valore di quanto segue a realizzare